Mi chiamo Giovan Battista e gioco a rugby da quando ho dieci anni. Io sono Maxime e sono un giocatore della Nazionale Italiana di Rugby. Ho iniziato da piccolino, il mio compagno di classe mi ha invitato al campo con lui per fare allenamento e da quel momento è stato amore a prima vista. Sono qui per raccontarvi cos'è per me lo sport, ma soprattutto per dirvi muoviamoci ragazzi. Ero uno di quei bambini con le batterie sempre cariche e il rugby mi dava la possibilità di sfogarmi. Da subito è nata una grande passione, infatti oggi il rugby è diventata la mia vita. Il rugby mi ha dato la possibilità di viaggiare, di conoscere nuove persone, mi ha regalato amici che dureranno una vita. Da piccoli si gioca tutti insieme, ragazzi e ragazze, non importa chi sei o da dove vieni. Basta avere voglia di divertirsi, collaborare e vincere. Per stare bene e avere tanta energia durante la giornata c'è bisogno di un'alimentazione sana, corretta ed equilibrata. Con tanta frutta e verdura e senza dimenticare però di bere tanta acqua. La chiave di tutto è il movimento. Anche se non praticate uno sport, è comunque importantissimo muoversi. Quando corriamo, facciamo esercizi, il nostro corpo cresce e diventiamo agili e forti. Muoversi poi all'interno di una squadra è ancora più bello perché ti fa capire qual è il tuo posto all'interno di un gruppo. E allora, muoviamoci ragazzi! Muoviamoci ragazzi! Muoviamoci ragazzi!